Siamo qua con Mr. Benedetti al termine della partita tra la Pisana e il Frosinone. La Pisana ha vinto 8 a 0. Mister, le prime impressioni dopo questa partita? Intanto buonasera a tutti. Impressioni buone. Ho cercato risposte della squadra e le ho ottenute. Ho avuto una partita di intensità alta e poi oggi il risultato è stato largo. Occasioni anche tante. Credo che loro oggi siano arrivati abbastanza decimati rispetto al solito. Per noi è stato più semplice. Però quello che mi interessava oggi è la prova di squadra, la voglia, il carattere di mettere in campo. Da mettere in campo soprattutto. Senza guardare l'avversario, senza guardare chi avevamo davanti. Per me l'importante dopo questi due turni di Coppa passati e una semifinale che ci aspetterà. era importante dar seguito a una buona prestazione. Mister, nonostante questo risultato largo, come ha detto lei poco fa, c'è qualcosa ancora da migliorare secondo lei? Sì, credo che ci sia tutto da migliorare. Se pensate che noi non vinciamo una partita da novembre in campionato. Poi è vero che il campionato è stato fermo un mese. Però venivamo comunque dopo la vittoria da una sconfitta e due pareggi. Era un po' di tempo che non riuscivamo a ottenere la vittoria. Oggi è stato importante riottenerla e ci porta un po' più feduciosi ai prossimi incontri che andremo a fare. Quindi Mister, possiamo dire che questo è un punto di partenza anche in vista della semifinale di Coppa e per il continuo del campionato? Sì, la semifinale di Coppa penso che si giocherà in primavera. O lì vicino. Adesso dobbiamo tuffarci testa al campionato perché abbiamo perso già troppi punti. La prossima giornata sarà un impegno probante, difficile, contro la Totti. Quindi già da lì dovremmo vedere di che pasta siamo fatti. Se è una squadra che può competere, non dico per il primo posto, ma almeno per le piazze nobili della classifica, lo vedremo già dai prossimi incontri. Adesso testa bassa dalla prossima. Mister, ringrazio per l'intervista che ci ha dedicato. In bocca all'uovo per la stagione. Grazie e buonasera a tutti voi.